Noi abbiamo guardato con particolare interesse questo progetto e siamo particolarmente lieti di poterlo sostenere per quanto riguarda tutta la parte di sicurezza. Il compito della nostra fondazione è proprio quello di sostenere gli oneri economici per la protezione di edifici, opere o anche di eventi come in questo caso, di particolare valore storico e artistico per il nostro paese. La nostra fondazione è stata attiva su diversi progetti, dalla protezione dell'ostensione della Sacra Sindone alla protezione dell'isola di San Giorgio a Venezia e abbiamo sempre però tenuto un occhio di riguardo per il patrimonio cosiddetto minore o per il patrimonio che costituisce un grande valore per le comunità locali del nostro paese. In questo senso, questo evento della traslazione delle spoglie di San Gaudenzio è per noi particolarmente importante perché è una significativa espressione di quello che è il patrimonio più importante forse del nostro paese, quello ingiustamente definito minore. La nostra fondazione si farà carico dei sistemi di sicurezza che saranno composti dalle più moderne tecnologie per dare la massima tranquillità sia al materiale che verrà esposto sia ai pellegrini che verranno nella chiesa.